Ispirare il mondo da Barcellona con modelli che fondono design, stile, innovazioni tecnologiche ed alte prestazioni. E' questa la mission del brand Cupra che arriva nel capoluogo pugliese dentro ufficialmente a far parte dei marchi della sede di Amica a Bari. Un ingresso che permette così alla concessionaria in strada statale 96 a Modugno di diventare uno dei primi Cupra Garage ufficiali del mercato italiano. Stasera inauguriamo qui a Bari il primo Cupra Garage qui nella sede di Bari della Amicar. Cupra è il nuovo marchio del gruppo Volkswagen che è diretto a clientela particolarmente attenta alla performance intesa non solo come prestazioni automobilistiche ma anche prestazioni di estetica, di qualità e di ricercatezza nella vettura che è da vivere tutti i giorni. E' la prima volta che un nuovo brand si affaccia sul mercato e quindi veder nascere proprio lo spirito del brand al zero è un'esperienza molto affascinante. Presente all'interno di Amicar uno spazio tutto dedicato al brand Cupra che ospiterà prima fra tutte la nuova Cupra Formentor, il modello dal DNA 110% Cupra, un SUV Coupé progettato per esprimere al meglio il concetto di sinergia, trasportività e design, concetto chiave alla base della filosofia del marchio. Cupra Formentor come dicevi anche tu è il nostro nuovo primo SUV Coupé, quindi appartiene al segmento dei SUV Coupé, è una vettura di 4,45 metri, comunque con delle misure compatte, con degli ottimi spazi interni. La vettura è disponibile nelle motorizzazioni 2000 benzina 310 cavalli come la vettura esposta qui dietro, ma ci sono anche delle versioni più standard tipo 1500-150 cavalli TSI con cambio manuale o con cambio automatico. Novità importante, già da fine anno avremo qui in concessionaria possibilità di valutare la versione diesel 2000 150 cavalli e subito dopo per i primi giorni dell'anno nuovo avremo anche le prime informazioni per quanto riguarda la motorizzazione ibrida. Grazie a tutti.